Sì, sei in diretta sul Bello di Chieti. Allora, che devo dire? Io sono un generale fuori vuota. Ci spieghi cosa avviene adesso? Mi dicono, non sono sicuro, che dobbiamo bruciare il carnevale perché dovrebbe essere la rivalza dei poveri, in quanto il popolo oppresso, in questa circostanza, comanda dai danni del potere, della grande economia di allora. Mi fermo così fa. Bruceremo il carnevale. Ma il giallo con l'annello? No, un generale fuori porta. Ah, già, già, la dica. Ok. Visto l'età, visto l'età. Bene, grazie generale. Grazie, grazie, grazie. Cerchiamo di rimanere all'interno. Facciamo la ripresa. E qui non ci potete stare. Eh no, perché l'uote non è passato il carro. Ok, ok. E qua? E qui deve passare il carro. Ho capito. C'è il carro. Non ti preoccupare che l'abbiamo vinto qua. Non è che ci metto sotto. Di là, di là. Però, sicurissimo che mette me. Stiamo arrivando a ripresa un gruppo di due, un po' di due. Una ripresa di due. Guarda. Quello è tutto fatto di materiale e non ci sta un pezzo di roba nuova. È tutto risiclato. Ma pure il cavallo. Ma risiclato tutto. Solo le vigie che ho. Sapete quanti pochiglie sono state raccolte da un bar in due mesi? Da 13 dicembre a 13 febbraio 848 pochiglie del latte e dell'acqua. Acqua e l'acqua. Ok. 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 non puoi entrare ancora 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 eh signore non puoi entrare ancora 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 non puoi entrare non puoi entrare ancora 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 silencio non puoi entrare ancora è vero bravo il primo ministero non puoi entrare ancora 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 non puoi entrare ancora